Grazie a tutti Palo porca puttana Vasco vai tira Tira ancora Vasco Porca puttana Vasco 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 Te parteciperai Alla Goat League Nella squadra di ZW Jackson Giusto? Sì questo lo dici te Io devo sapere cose più precise E dopo domani andare Scusa No scusa Perché ho sentito dire Ma te che ne pensi di ZW Jackson? Infame Io non li conosco queste persone Ok Ok Bomba Oh Rosso Oh Oh C'è il pagliaccio Oh c'è il pagliaccio ZW Sì ma non l'ho fatto dire Ma che cazzo ZW Ma dove cazzo siete? Perché loro stanno in squadra di ZW Stiamo a casa Oh ma stai pronto per sta Got League o no? Oh io sono prontissimo Sono carichissimo Ma in che squadra siete? Guarda che se entri in campo non ti conviene proprio In che squadra state? Io faccio il mister Io faccio il mister C'è lui in campo Di che squadra? Nella Fucina siamo noi Chi è la Fucina? Chi è la Fucina? Quella di Manfredi Sì quella cucina calcio Che di alla bionda S'ha rubato gli orologi Del pupone a Ouda e a Roma Che non ho capito? La nuova Ilari Brasi Cazzo Uno di loro tre Ha stretto un bel legame Con una vicina di casa Bomba E ha deciso di schiaffassela Questa vicina di casa C'ha quasi 50 anni Vabbè chi in quella casa Non se l'è fatto fare Quindi uno di loro tre Ha deciso di avere un rapporto Con la sua vicina di quasi 50 anni La seconda storia del ragazzo Che ha deciso di avere un rapporto Con la sua vicina di quasi 50 anni è El Zivo Comunque De quanto è che con Vivi stai dicendo Scusa che è entrato poi in squalma? Da cinque mesi Cinque mesi? Maca poco? Mamma mia bro Ti stai trasformando Al figlio Al figlio Dai faccio un figlio Vogliamo sto figlio Faccio il figlio Luchino Me lo puoi lasciare quando vuoi Te lo giuro Io amo il bambino No ecco Magari a Vale Non lo lascio Che lo porto allo special Ogni weekend No 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 Ma vale Bro le pizza in Svizzera Sono così Gioca Senza a fare la diretta Alla sera Facciamo un po' di sfide dentro Tipo non so Che si può fare Porti un po' di tue amiche Porto tipo 20 fighe Allora Io sotto nel negozio Ho una bella sala grande Quindi volendo possiamo organizzare lì Creiamo anche delle challenge Qualcosa di figo Però un po' per la prima volta In esclusiva nazionale Donato in diretta Bello Cosa Bello Bello Dai non piangere Donatino nazionale Che farà un bel panino in diretta Anzi sarei tu A fare il panino donato Capito Tu speak english? Of course Ma porto Ah boba Cazzo ho fatto ridere mamma così tanto ragazzi Sono contentissimo Ti sentite Ciao 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 Ciao